Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i tuoi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 26, 14 giugno 1929, Conti con Gesù L'anima banco della divina volontà Ricordi indimenticabili L'Eden Stavo seguendo il mio giro nel Fiat Supremo e la mia piccola mente, giunta nell'Eden, stava dicendo Maestà adorabile Vengo innanzi a te per portarti il mio tenue interesse del mio Ti amo, Ti adoro, Ti glorifico, Ti ringrazio, Ti benedico Per darti il mio piccolo interesse che mi hai dato un cielo, un sole, un'aria, un mare una terra fiorita e tutto ciò che hai creato per me Tu mi dicesti che ogni giorno vuoi fare i conti con me e ricevere questo mio tenue interesse Per starci sempre d'accordo e tenere al sicuro nel piccolo banco dell'anima mia tutta la creazione datami da te come piccola figlia del tuo volere Ma mentre ciò facevo il pensiero mi ha detto Ma come puoi tu soddisfare ad un interesse così grande? E poi che granché sarà mai un tuo Ti amo, Ti adoro, Ti ringrazio Ma mentre ciò pensavo Il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto Figlia mia, questo fu un accordo tra me e te che io mettevo nel banco dell'anima tua, la creazione tutta e tu devi darmi l'interesse di riempirla col tuo Ti amo, Ti adoro, Ti ringrazio E siccome ti vidi impacciata di un capitale così grande e temendo che volessi respingere il grande dono io per incoraggiarti a riceverlo ti dissi Mi contento di un tenue interesse E faremo i conti tutti i giorni qui, nell'Eden Così staremo d'accordo e sempre in pace E tu non starai in pensiero che il tuo Gesù ha messo nel banco tuo un capitale così grande E poi non sai tu il valore di un Ti amo nella mia divina volontà? Essa riempie il cielo, il sole, il mare, il vento Dovunque stende la sua vita Onde come tu dici il tuo Ti amo, Ti adoro e tutto il resto che puoi dire Il mio Fiat stende il tuo Ti amo nel cielo Ed il tuo Ti amo si fa più esteso del cielo Il tuo Ti adoro si stende nel sole si fa più largo e più lungo della sua luce Il tuo Ti glorifico si stende nel vento e gira per l'aria per tutta la terra ed i suoi gemiti le ondate di vento ora carezzevoli ed ora impetuose dicono Ti glorifico Il tuo Ti ringrazio si stende nel mare e le gocce dell'acqua ed i guizzi dei pesci dicono Ti ringrazio Ed io vedo il cielo, le stelle, il sole, il mare, il vento riempiti del tuo Ti amo delle tue adorazioni e simili e dico come sono contento che tutto ho messo nel banco della piccola figlia del mio volere perché lei mi paga l'interesse da mio voluto e siccome vive in essa mi dà un interesse divino ed equivalente perché il mio fiat estende i suoi piccoli atti e li rende più estesi di tutta la creazione Ed io quando ti vedo venire nell'Eden per darmi il tuo tene interesse ti guardo e vedo in te la mia divina volontà raddoppiata una in te e l'altra in me mentre è una e mi vedo pagare l'interesse dalla mia stessa volontà ed io ne resto soddisfatto oh come sono contento nel vedere che il mio fiat ha dato virtù alla creatura di farsi raddoppiare per farla soddisfare al suo creatore figlia mia quante cose indimenticabili ci sono in questo Eden qui il nostro fiat creò l'uomo e sfoggiò tanto in amore che a torrente si riversò sopra di lui tanto che sentiamo ancora il dolce mormorio con cui ci riversavamo sopra di lui qui cominciò la vita del nostro fiat nella creatura e il dolce caro ricordo degli atti del primo uomo fatti in essa questi atti esistono tuttora nel nostro volere sono come pegni che lui rinasca per riavere il regno del nostro fiat in quest'Eden c'è il doloroso ricordo della caduta dell'uomo l'uscita che fece dal nostro regno sentiamo ancora i passi quando uscì dal nostro fiat divino e siccome questo Eden era stato dato a lui finché vivesse in esso perciò fumo costretti a metterlo fuori ed avemmo il dolore di vedere l'opera a noi più cara senza regno suo ramingo e dolorante l'unico nostro sollievo furono i pegni degli atti suoi rimasti nel nostro volere questi chiamavano i diritti dell'umanità a rientrare da dove uscì ecco perciò ti aspetto nell'Eden per ricevere il tuo teno interesse per rinnovare ciò che facemmo nella creazione e ricevere il ricambio di un tanto amore non compreso dalle creature e trovare un amoroso pretesto e trovare un amoroso pretesto di dare il regno della nostra divina volontà perciò voglio che sia anche a te caro questo Eden affinché ci preghi ci pressi che ritorni il principio della creazione la vita del nostro Fiat in mezzo all'umana famiglia cominciamo con l'aiuto del Signore la meditazione di questo brano che ci riporta nell'Eden è alquanto commovente a mio povero parere sentire Gesù rievocare, ricordare non so se questa è un'impressione condivisa la dico come esce dalla mia percezione ne sembrano quasi è come quando c'era una bellissima storia d'amore che finisce finisce perché uno è stato lasciato perché così è andato a finire nell'Eden non c'è niente da fare l'uomo ha lasciato Dio ha fatto questo cioè sentire Gesù che rievoca dice ma quanto era bello quando stavamo ancora insieme e perché così quando lui faceva i suoi atti i miei quando potevo felicitarlo e poi un bel giorno mi ha detto addio e sono rimasti dice Gesù soltanto i suoi atti atti divini da un lato a come dire a a sancire una sorta di diritto nell'umanità questo che il regno del Fiat torni perché quegli atti sono inderebili e incancellabili e stanno come dire dice Gesù come pegni a chiedere torni questo di involere a regnare e fa anche però impressione vedere il doloroso ricordo della caduta dell'uomo sentiamo ancora i passi quando è uscito il nostro Fiat divino sono immagini belle così come commovente ciò che Gesù spiega nella prima parte della meditazione quando Luisa si stupisce ecco perché Gesù vuole che abbiamo capito che Luisa faccia ogni giorno un piccolo giro nell'Eden per dargli insomma il piccolo interesse del suo capitale insomma perché quella quella grande rifiuto fatto dall'uomo chiede di essere riparato con tanti ti amo ti benedico ti ringrazio e Luisa questo lo faceva si chiede ma che sarà mai questa cosa Gesù gli spiega guarda che non è che sarà ma non dipende da te dipende dal fatto che sono ti amo ti adoro ti benedico ti ringrazio messi nella mia volontà e quindi gli spiega i viaggi che fanno la forza di estensione che hanno questi questi atti su questo ci abbiamo mi ritrovo già tante volte quindi ti amo nel cielo quindi anzi dire Gesù ti amo nella tua volontà metto il mio ti amo ecco nel momento in cui creasti l'uomo e nei primi atti che Adamo fece no ecco significa produrre tutti quanti questi straordinari effetti che arrivano a Gesù lui dice lo stesso dice come come l'interesse divino ed equivalente perché sono per quanto riguarda il mittente sono dei piccoli atti perché noi siamo dei poveri esseri umani ma per quanto riguarda la modalità in cui sono compiuti e quindi la forza che acquisiscono per la potenza della divina volontà diventano grandi e degni di Dio ecco ciò detto io vorrei adesso nella parte diciamo un po' più riflessiva della meditazione fare delle considerazioni molto importanti perché qui c'è tutto quanto il problema nel sottofondo evidentemente di queste considerazioni di Gesù delle conseguenze delle nostre azioni del peccato e delle nostre conseguenze io credo che questa sia una riflessione da fare un pochino più spesso perché oggi io vedo tanta incoscienza in giro incoscienza spesso volontaria non solo spesso volontaria ma spesso anche alimentata da immagini teorie stravolgimenti della sana dottrina cattolica che dove stanno scritti devo ancora capire bene insomma mi spiego noi dobbiamo sempre ricordare le conseguenze delle nostre azioni Adamo è uscito dall'Eden e non ci è rientrato più lui personalmente non ci è entrato più non solo ha introdotto nel genere umano delle conseguenze se non voglio fare gli inviti alla catechesi di questa sera sul peccato originale che sono irreversibili alcune conseguenze sono irreversibili cioè ha messo tanto per fare riferimento al ciclo di catechesi in corso attualmente adesso se uno sente la meditazione tra qualche anno non sarà più in corso è il ciclo di catechesi sul peccato originale quindi l'ipotesi teologica su che cosa sia stato il peccato originale supponiamo che sia vero io lo ritengo vero che il peccato originale è stato un introdurre dentro il genere umano una modalità di riproduzione che non era quella pensata da Dio questo è un effetto per quanto mi riguarda irreversibile Gesù non ha mai fatto riferimento io adesso i libri di Cero l'ho letto tutti poi li riprenderò qui evidentemente con Luisa non fa riferimento a questa problematica hanno fatto riferimento a questo con altre anime sue predilette però arriverà il regno della divina volontà ma cambierà il modo per esempio di generazione degli uomini cioè gli uomini torneranno ad essere generati così come era nell'Eden io non credo così come non credo che più nessuno morirà passerà per il pezzo della morte corporale questo anche Gesù lo dice quando verrà il regno della divina volontà non è che non si muore più si muore certo molti conserveranno i corpi incorrotti ma questa è una cosa che eccezionalmente succede anche adesso a diversi santi è successo come sappiamo è uno dei casi più famosi santa bernardette che se uno va a never la vede come era il giorno della sua morte è proprio rimasta dalle quale alcune cose le malattie le malattie dice Gesù che scompariranno le passioni si fermeranno il diavolo non c'era più nessun potere però per la morte ci si deve passare e lo stato comunque dell'umana famiglia quindi le cose che sono state sepolte e quelle che si sono perdute alcune sono perdute per sempre cioè faccio un altro esempio con questo non voglio evidentemente qui Gesù sta dicendo il contrario quindi queste considerazioni non devono portare a pensieri di distruttivi o di disperazione no però devono anche aiutarci a farci prendere coscienza ad alcune cose noi non possiamo dire che gli fa faccio questa cosa tanto poi mi confesse Dio mi perdona non è così semplice non è così semplice una ragazzina facciamo un esempio che perde la verginità per una follia e certo poi si pente si confesse non è che non è che è dannata d'accordo ha fatto un guaio adesso ormai sono dannata non sei dannata pentimento per avere il perdono penitenza per l'espiazione però ci sono questi due in ogni caso però quando ti andrai a sposare se un giorno ti andrai a sposare tu volessi dire a tuo marito amore mio sono solo tua non mi ha conosciuto nessuno al posto tuo tu questo non lo puoi dire perché non c'è più non c'è più allora c'è un passo della lettera di San Pietro bisogna dirle queste cose oggi che dice queste testuali parole la magnanimità la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo consideratela come salvezza che significa questa cosa qui significa che tu non devi crogiolarti o abusare della misericordia pensando ah vabbè ma tanto Dio è misericordioso quindi quello che faccio faccio comunque cosa faccio c'è comunque la possibilità di rientrare non c'è sempre la ruota di scorta tanto Dio è misericordioso questo atteggiamento oltre che essere un atteggiamento offensivo nei confronti del Signore perché la misericordia è una cosa tanto grande e preziosa che prima di nominarla bisognerebbe baciare con la faccia a terra perché la divina misericordia per scendere su di noi e nessuno ha diritto ad essa perché la divina misericordia è un sono gratuito che è costato tutte le pene le sofferenze e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo capito? quindi un conto che uno disgraziatissimamente per debolezza per una forte tentazione cade in peccato e nessuno è autorizzato per disperarsi e dire ecco ormai non c'è più niente da fare così rifacciamo il peccato di Giuda e di Caimo no però mea culpa mea culpa pentimento penitenza e dolore e prima di peccare ecco perché la magnanimità del Signore nostro è una misericordia considerata come salvezza prima di peccare mai pensare a chi se ne importa facciamo il peccato lo stesso tanto poi c'è la misericordia che Dio mi perdona perché le conseguenze di certe azioni alcune potrebbero essere non reversibili alcune ne ha senso perché molte volte vedo anche questo cioè ne ha senso fare delle azioni percepite in coscienza come cattive da non farsi e come dire pensare o che siano raddrizzate qualcuno per questo pensa dalla Divina Volontà ma se mi fondo con la Divina Volontà forse poi la giustiamo o se invoco la protezione di Maria ma stiamo scherzando oppure dopo che uno l'ha fatta comincia a dire ho fatto bene dopo ho fatto bene ho fatto male e comincia a cercare qualcuno che in qualche modo gli taciti la coscienza che lo rimprovera ma lo rimproverava già prima allora perché dico tante queste cose perché se anche il buon Adamo che adesso sta in paradiso per carità è un'anima santa quindi ha fatto solo quel peccato quindi non dobbiamo certamente considerarlo malamente stiamo semplicemente però riflettendo sulle conseguenze di un atto di cui tutti insomma ci portiamo ce le portiamo dietro se fosse stato un attimo più riflessivo a dire ma aspetta un momento cioè Dio ha detto di no quindi è no non si può fare per quanto possa sembrare interessante seducente attraente perché è stato tentato evidentemente no prima la donna e poi lui stesso dalla donna quindi non è che se che cosa succederà se faccio questo punto interrogativo che meccanismi andrò a innescare che succederà ecco quindi io ritengo che questa sia una cosa importantissima e a me personalmente come sacerdote quindi come persona che è in cura d'anime e qui se c'è una cosa su cui siamo tutti quanti d'accordo spero almeno per quanto riguarda me è che il fine dell'azione della chiesa della nostra azione della nostra vita è la salvezza delle anime la salvezza delle anime ecco quindi vedere diffusa questa cosa qui questa irresponsabilità diffusa questa sconsideratezza diffusa questo agire in maniera folle a volte sconsiderata ma crogiolandosi e questo accade spesso parlo da sacerdote da parro della persona che sta in cura d'anima ne ho riscontri in continuazione cioè ci si crogiola dicendo ah vabbè ma tanto che sarà mai ah vabbè ma tanto il Signore mi perdona ah vabbè ma tanto mica sarà la fine del mondo ricordiamo le parole di Gesù il doloroso ricordo della caduta dell'uomo l'uscita che fece e da quel momento in poi fuori e cominciò ad essere a vita ramingo e dolorante ramingo e dolorante il tema delle conseguenze delle nostre azioni in questa e nell'altra vita anche per esempio cioè una persona commette un atto fa un atto impuro io ogni tanto queste cose lo dovrei dire con tanta delicatezza dico figlio mio vabbè perché ci si crogiola cioè questo come dire cioè se uno legge per esempio i manuali di spiritualità classica ma si vada a leggere per esempio la filotea di San Francesco di Salle che è un autore dittore della chiesa un vescovo cioè quando insegna a fare l'orazione mentale in modo particolare ecco per consagrare la vita al Signore di iniziare il suo cammino spirituale proprio nelle prime pagine della filotea andate a vedere le meditazioni che propone ci sono le meditazioni sull'inferno fatte in maniera molto realistica cioè dove si provoca l'orante dicendo state attento che per due minuti di piacere c'è un'eternità di tormenti e poi c'è la descrizione e poi tu sei responsabile della morte in croce di Gesù quindi ci sono tutta una serie di cose proposte alla meditazione uno ci deve pensare o non ci può non pensare hai fatto un atto impure che pensi che te la cavico l'atto di dolore e tre ave Maria pensalo pure io anticamente in qualche catechesi raccontavo raccontavo con non per terrorizzare le persone ma per far prendere coscienza cioè le penitenze che si davano per certi peccati nel primo millennio che non era come dire un giustizialismo ah siccome hai fatto questa cosa ora ti do una penitenza che te la faccio che te faccio vedere io che ora te la ricordi per tutta la vita non è questo perché una penitenza consistente il messaggio che dà e che è vero è questo cioè l'espiazione di questo peccato che ti è stato rimesso quanto la colpa ma deve essere espiato quanto la pena esiste la giustizia oltre che la misericordia di Dio ok una fornicazione semplice un rapporto prematrimoniale sette anni di digiuno a pane e acqua era la penitenza cioè ma ci rendiamo conto vuol dire che il male che tu hai innescato e provocato e che ti sei fatto per essere completamente riparato espiato ripulito ripristinato esige una purificazione che in termini di digiuno equivale a questo tempo come sarà tradotto questo in purgatorio io non lo so perché non ci sono mai stato ma sappiamo con certezza che il purgatorio non è una sala d'aspetto fece una volta una catechesi che si chiamava così non è una sala stai in un salotto col cameriere che ti porta il caffè in attesa ecco che il padrone dell'albergo che è il nostro signore dice vieni la camera è pronta accomodati non è così il purgatorio non è così e qui ci sono montagne di testi da leggere sul purgatorio montagne di testimonianze da ascoltare cioè questo clima questo andazzo che ci sta in giro che ormai dura da non so quanti anni che sembra che qualunque cosa tu fai non succede niente se sei morto in stato di come dire che sono 40 anni che non metti piedi in chiesa che problema c'è adesso sta nella casa del padre è finito il discorso allora queste cose sono omicidi spirituali sono atti criminali perché una persona che sente queste cose magari ci crede tu la metti in un mare di guai perché questa persona comincerà a fare a cuor leggero tutto quello che a cuor leggero non deve essere fatto non bisogna mai indurre alla disperazione ma al fare le persone serie sì all'avvertire delle conseguenze delle proprie azioni sì e poi dire io ti ho avvertito adesso guarda bene quello che devi fare dopo non ti metti a piangere però dopo non fare il pianto se tu fai quell'azione te ne assumi la responsabilità che ci sono non è che non ci sono non è che un tempo si predicava l'inferno si facevano queste meditazioni e se uno tra poco comincerà la quaresima ma noi abbiamo idea di come erano i quaresimali di un tempo quando andavano i predicatori nelle parrocchie anche in questa qua c'è venuto pure San Leonardo da Porto Maurizio mi immagino le prediche che ha fatto San Leonardo da Porto Maurizio qui pensiamo che sono cambiati i tempi erano cose di altri tempi poi questi poveretti insomma c'erano anche una capoccia un po' ristretta invece adesso abbiamo capito come stanno le cose quindi che le cose non stanno così che non bisogna fare il terrorismo religioso che Dio è buono e misericordioso e quindi diciamo altro siamo sicuri che è così? io faccio questa perché non è così non è così sono passati secondo i riferimenti che ci dà 6.000 anni dal peccato originale che qualcuno ha visto in giro il regno della divina volontà ancora? dice sì va bene non è tutto perduto perché tanto ci stanno gli atti fatti da Adamo quindi questo tornerà ah certamente che tornerà bisogna vedere ma capiamo cosa significa il ritorno del regno della divina volontà che cosa è costato punto interrogativo 2.000 anni 4.000 anni di attesa soltanto perché arrivassi il redentore quindi passando per il diluvio universale l'opera della redenzione altri 2.000 anni quanti padri nostri saranno stati detti dall'anno zero fino adesso? perché una delle cose che giudice dice fino a quando non saranno compiuti tutti quanti gli atti necessari il regno della divina volontà non verrà così come il regno della redenzione non è venuto fino a quando non ci sono stati i martiri i gemiti dei profeti le preghiere le suppliche e manda il messia e manda il messia e poi arrivata la madonna che tra i dici anni ha fatto un esplorato che valeva più di 4.000 anni tutti i quanti messi insieme se no Gesù non veniva sulla terra ma ci pensiamo a queste cose ma quanti padri nostri saranno già stati detti qualcuno ha idea del numero di padri nostri che tutti i cristiani avranno detto dal giorno in cui Gesù l'ha insegnato fino a oggi ma saranno una quantità ma spropositata ma saranno trilioni cioè decine di trilioni il padri nostro lo dicono tutti oggi un po' meno però insomma e il rinitato ancora non c'è sta vuol dire che non sono ancora abbastanza i padri nostri o no ecco quindi quindi siamo seri cioè il nostro signore Gesù Cristo che per caso ha fatto qualche peccato dicendo vabbè ma che gli fa insomma su questa cosa il padre mi perdonerà sto parlando evidentemente provocatoriamente no oppure che per caso la madonna ha fatto qualche peccato dicendo vabbè ma che problema c'è guai che problema c'è guai che problema c'è perché tra il prima e il dopo c'è un abisso c'è è vero che noi siamo figli di Adamo quindi non ce la facciamo essere immacolati e perfetti però però altro è questo quindi la coscienza della propria debolezza quindi camminare sempre umidi chiedere sempre l'aiuto del signore ma per quanto stai a noi mi faccio ammazzare piuttosto che fare un peccato ma ammazzare e scotennare vivo arrivano ogni tanto cose ma se io non sto in grazia di Dio che sto in stavolo di peccato mortale posso fare l'atto preventivo io non risponderei per niente a questo ma quale atto preventivo vuoi fare se stai in stavolo di peccato mortale ma che domanda è cioè o meglio è una domanda che ti fa capire molto no cioè che c'è un'anima che certi abc essenziali non li ha chiari ma qualche atto preventivo vuoi fare se stai in stato se non stai in grazia di Dio capiamo no tanto per dire quindi la misericordia la magnanimità del Signore nostro Gesù Cristo in cui fermamente crediamo nessuno mai per nessun motivo ha il diritto di disperarsi ma nessuno mai per nessun motivo ha il diritto come dire di cadere in quella che San Bernardo chiamava la sciocca allegria la spensieratezza dei buon temponi che tanto non succede niente tanto non succede niente tanto non succede niente come i famosi andrà tutto bene di due anni fa abbiamo visto come andrà tutto tutto bene non si affrontano i problemi con il qualunquismo e con le sciocchezze d'accordo cioè dinanzi a cose serie e gravi fare una scorlatina di spalla vabbè ma non succederà niente questi sono discorsi da sciocchi non sono discorsi da santi e i santi non sono sciocchi pensiamo anche a quello che Gesù dice agli atti di Brisa che riparano tutto quanto il tema della riparazione che è presentissimo nel libro di cielo e che non è la prima volta che appare basta leggere e studiare per esempio i cicli delle rivelazioni di Gesù sul Sacro Cuore a Santa Margherita ma anche sul Cuore Immacorato di Maria la Madonna di Fatima i primi cinque sabati del mese i primi nove venerdì del mese sono atti riparatori per oltragi sacrilegi indifferenze offese fatte da un sacco di anime che di cui Gesù e Maria chiedono riparazione riparazione vuol dire che qualcuno deve provvedere a mettere una pezza a quello che si è rotto e che è stato rotto colpevolmente da qualcun altro oltre che anche da noi perché sicuramente anche noi ci abbiamo messo ahimè il nostro contributo allora è importante e concludiamo pensando Gesù dice quante cose indimenticabili ci sono in questo Eden certamente in Dio sono tutte sempre presenti ma qui sulla Terra non ci stanno più l'Eden non ci sta più per ora speriamo che torni ma anche quando tornerà tornerà quasi uguale non proprio identico perché come abbiamo visto all'inizio della meditazione questo ce lo confermano gli iscritti alcune cose non torneranno e questo ci dia la possibilità di essere coscienziosi riflessivi di non andare a fare stupidaggini a cuor leggero di cui poi ci pentiremo e faremo il pianto del cigno per tutta la vita abbiamo la possibilità e il dovere di pensarci prima non dopo perché a volte nel dopo potrebbe essere troppo tardi ripeto non per ottenere misericordia ma per impedire certe cose che una volta che poi sono state poste in essere non c'è possibilità di eliminarne le conseguenze o di ripristinarne l'integrità l'integrità Grazie. Bene, un grande grazie Signore Gesù per tutto quello che oggi ci hai mostrato. Il nostro cuore si fa un po' piccolino, pensando alla tua nostalgia dell'Eden e pensando che è un po' colpa di tutti noi, è colpa di tutti, se questo non c'è più. Ecco, se quel bel film che avevi scritto in tutti i suoi particolari, purtroppo non lo hai visto con l'intero genere umano, te l'ha fatto vedere soltanto e meno male che ci sta lei, che ci sta Maria Santissima, che almeno in una creatura hai potuto vedere tutta la perfezione, per quanto sta in te avevi fatto e che una creatura ha avuto il merito di non alterare minimamente, ma anzi di cooperare perché giungesse alla massima perfezione possibile. Chiediamo a una Madonna che ci aiuti ad interiorizzare le cose che abbiamo meditato, pensando tutte le volte in cui lei stessa ammonisce, avverte, prima che accadono le cose, se pensiamo a Fatima, pensiamo alle cose che disse sul comunismo, la consagrazione della Russia e quello che vediamo adesso, per non aver ascoltato i suoi inviti. Il Signore ci preservi da tante sciagure perché tutto ci dona per prevenire i mali, purché siamo attenti e coscienziosi. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.